Quinta vittoria in cinque partite per la lungo raggio Ostia, le Lidenzi hanno battuto in 3-7 l'All Volley Castello, debutto dal primo minuto per la palleggiatrice Siria Sarra. Molto emozionata e con tante responsabilità, l'importante comunque era vincere. Qualche difficoltà in certi momenti della partita, però Francesco Ortolani chiamava i time out il momento giusto, quando chiamava lui i time out poi rientrava in campo con maggiore consapevolezza. Sì, assolutamente, secondo me la cosa che ci ha contraddistinto è che siamo state molto unite in questa partita, almeno quello che ho percepito io. Purtroppo non riuscirai a terminare la stagione qui perché ti stai avviando alla carriera militare, hai superato dei quiz, com'è andata? Sì, ho superato i quiz per il WFP1 della Marina e quindi tra poco dovrò partire per il WFP1. Cercherò di ritornare quando si potrà, però non sarò presente negli allenamenti e nelle partite vediamo come possiamo fare. Magari tornare per festeggiare un qualcosa di importante sarebbe bello. Quello sicuramente, speriamo. Un grande avvio della squadra, cinque partite e cinque vittorie, come l'hai costruita questa squadra che sta rendendo così bene? La squadra è buona, molto buona e devo dire che la seguo anche negli allenamenti e dimostrano molta concentrazione, molta attenzione in quello che stanno facendo per cercare di migliorare sempre di più le nostre qualità di gioco, quindi secondo me possiamo fare molto bene. È arrivata un'altra vittoria, questo è l'importante 3-0 contro l'Olvole Castello, debutto anche di Siria Sarra come palleggiatrice al posto di Michela Cecchini che non stava tanto bene. Sì, è andata bene ma io non avevo dubbi su Siria, era un po' emozionata all'inizio però si è distriggata bene, insomma diciamo anche se è giovanissima però sa il fatto suo Siria. La squadra dell'Olvole è rognosa, che è una bella squadretta, tranquilla, ha un misto di esperienza e di gioventù, infatti i primi due sette 25-20, 25-20 lo denota. Poi il terzo sette, un po' siamo saliti in carte tra noi, loro sono un po' calati e mi sembra che è finita a nove insomma, voglio dire. Però ecco, un altro di tre punti da mettere in cascina. Il calendario prevede subito un bis di questa sfida, sabato prossimo le due squadre si affronteranno nuovamente a Roma. Da Ostia per Canale 10, Valerio Nasetti.